dobbiamo prendere quell'area ne vedo uno al viale d'accesso dobbiamo prendere No, no, no. Eccone uno! Abbiamo perso un uomo! Portatelo via! Colpite quell'area! Sei in arresto! A tutte le unità, situazione sotto controllo. Alla alla prossima! Oh no, no! Sì! Ok! Prendiamo! Verso un lungo! Ho preso! beccato dobbiamo ripulire quell'area dobbiamo prendere quell'area a terra via 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 a tutte le unità i sospetti stanno daŋando terreno codice 4 tutto ok l'area è sotto controllo andiamo e sopra di te sospetto neutralizzato grazie sospetto individuato e un altro è andato granata in arrivo sono bloccato nemico sotto di te cecchino è vista ce n'è uno laggiù cecchino avvistato granata incendiaria lanciata cecchino checchino avvistato Dobbiamo prendere quella posizione. Difendete quell'area! Sì, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Checchino in vista! Checchino! Attenzione, agenti! Abbiamo appena perso un territorio. Prendete quell'area! Attenzione! 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 Difendete quell'area! Il problema è risolto! Codice 4. Tutto sotto controllo. Dobbiamo controllare quell'area! Dobbiamo controllare quell'area! Eliminate quell'RTG! Abbiamo perso un territorio! Un Stato! Unitica! 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 Ciao Teleferica pronta Eccone uno Granata incendiaria l'antropia Dove vai? Torna qui Agente torna indietro Agente torna indietro I sospetti sono qui Eccone uno Guardatevi per gli strozzi di dosso Ci sparano di brutto Eccone uno teleferica piazzata da! aiuto! Grazie a tutti. 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 10-4, centrale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andiamo a ripulire quell'area. Grazie a tutti. Dobbiamo difendere. a tutti. Munizioni in arrivo. Ne vedo... Granata! e... dobbiamo controllare quell'area a tutte le unità i sospetti stanno guadagnando terreno la giù colpite quell'area a tutte le unità abbiamo perso un territorio dobbiamo prendere quell'area laggiù la giù Grazie a tutti. Difendete quell'area! Dobbiamo prendere quell'area! Aiuto! Sono qui! Giù le armi! 10-4, centrale. Tutto sotto controllo. Aspetta! Ora! Attenzione! Gli agenti hanno perso un territorio. Sono bloccato! Merda! Peccato! Perchè! 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 mani dietro la testa fermo lì non muoverti sospetto neutralizzato a tutte le unità i sospetti sta prendete quell'area sparate in quella zona ehi ce n'è uno sopra di te attenzione al fuoco granata a frammentazione in arrivo non 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 Dove sono gli altri? Dobbiamo prendere quell'area! Dobbiamo prendere quell'area! Eccole uno! Colpite quell'area! Ce n'è uno al viale d'accesso! Dobbiamo ripulire quell'area! Lo si tratta! No mi avrete! Sì! Prendete quell'area! 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 Prendete... Prendete quell'area... Prendete! Prendete qui! Sì. 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 Lavoratevi una mano! Forza! Si, 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 si trova all'officio con l'aria. Attenzione, ora! ATTENZIONE SPIRIT Non è sotto comunque Cecchino Ehi, ho un kit medico Dobbiamo prendere quell'area Dobbiamo prendere quell'area Dobbiamo prendere 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 Difendete quell'area! Il destino è in vista! La! 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 No, no, no! Ne vedo uno al viale d'accesso Dobbiamo prendere quell'area D'accesso L'arresto! Sparate in quella zona! Sarci скорее! E un altro è andato! Suspetto è a terra! Centrare! Sono sul posto, attendo il rcenteredo diіт. Codice 4, tutto sottocontro. Dobbiamo ripulire quell'area. Sottocontro. Qui il problema è risolto. Ce n'è uno laggiù! 10-4 centrale, tutto sottocontro. 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 A tutte le unità. Sottocontro. 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 attenzione fermo lì non muoverti la situazione sotto controllo difendete quell'area colpite quell'area Codice 4. Tutto sotto controllo. Eccone uno! Sospetto eliminato! A tutte le unità, situazione sotto controllo. Piazzo la carica! Dobbiamo prendere quell'area! A tutte le unità, non muovetevi. In arrivo ulteriori dettagli. A terra! Prendete quell'area! Granata incendiaria! Eccone uno! Eccone uno! Sì, l'ho beccato! Dobbiamo prendere quell'area! Datemi una mano! Sì, l'ho usata! Dobbiamo prendere quell'area! Sì, l'ho usata! Sì, l'ho usata! Sì, l'ho usata! Sì! Sì, l'ho usata! Sì, l'ho usata! Sì, l'ho usata! Dobbiamo prendere quell'area! Tutto sotto controllo! Eccone uno! Ottimo lavoro! L'area è in sicurezza! Via! Carica attivata! A terra! C***o! F***o! Perché? Non è un sacco... In terra! Un' season! Qui? Sì, due! Eccone! Granata! Giù le armi! Ora! Merda! Chiudere le fiamme! Chiudere le fiamme! Attenzione! Gli agenzi hanno perso il territorio! 10-4, centrale, tutto sotto. 6-1, bloccato! Calcio! Ehi, sopra di te! Sono bloccato! Prendete quell'area! Lancio la granata! Prendete quell'area! Sì, l'ho beccato! Ok, l'area è sotto controllo. Colpite quell'area! Qui il problema è risolto. Dobbiamo ripulire quell'area! Ne vedo uno là! Prendi io! Giù le armi! Sarca in posizione! Sparate in quella zona! Giù le armi! Giù le armi! Giù le armi! Aiuto! Sparate in posizione! Sparate in posizione! Scaria! dobbiamo prendere quell'area granate incendiaria lanciata sospetto eliminato 10-4 centrale dobbiamo difendere quell'area attenzione gli agenzie hanno perso un territorio attenzione gli agenzie attenzione gli agenzie dobbiamo prendere quell'area 10-4 centrale tutto sottrotto a tutte le unità abbiamo perso un territorio attenzione gli agenzie 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 partenza evitando il gioco aiutatevi dobbiamo ripulire quell'area 12 a 4, tutto sotto controllo. A terra, ora! Dobbiamo prendere quella posizione! Dobbiamo prendere quella posizione! Dobbiamo prendere quella posizione! A terra! Attenzione! È essere stato perso un territorio! Possiamo prendere quell'area Ecco qui il medico Codice 4, tutto sotto controllo Colpite quell'area Agenti sul posto, rinforzi in arrivo Sospetto armato eliminato Sospetto individuato Difendete quell'area Dobbiamo controllare quell'area Ok l'area è sotto E dietro, granata a frammentazione Vedo una mina in gioco Tutto sotto Tutto sotto A tutte le unità I sospetti stanno guadagnando terreno E un altro è andato Vado Vado Oggi Oggi Sì! Grazie a tutti. Giù le armi! A terra! Ecco un kit medico! Arriva aiuto! Tutto sotto controllo, ottimo lavoro. L'area è in sicurezza. Dobbiamo difendere quell'area! All'area è in sicurezza. Tutto sotto controllo, ottimo lavoro. Kit medico! A tutte le unità. Resisti! Ecco un kit medico! Laggiù! A tutte le unità, situazione sotto controllo. Prendete quell'area! Quello è andato! Prova questo! Ho un kit medico! Codice 4. Tutto sotto controllo. Agenza a terra! Codice 4. Tutto sotto controllo, ottimo lavoro. C'è la parata! Nemico eliminato! In piedi! Difendete quell'area! Attenzione! Attenzione! Abbiamo appena perso il territorio. Abbiamo appena perso il territorio. Ottimo lavoro. L'area è in sicurezza. Fermati! Muoviti! Premi! Ottimo Star